Si inizia domani al Torriol Angioino con la mostra fotografica di Dominique Jean-Paul Stanisci dal titolo Come fiori di loto per illuminare l'oscurità con la forza della speranza. A chiudere il sipario sarà un dibattito sulla dignità umana lunedì 10 febbraio. In mezzo c'è tanto altro, i convegni, gli incontri tematici da segnalare quello sulla figura di Giuseppe Di Bagno, i mattine con le scuole, il dialogo con personalità di notevole spicco. Quest'anno ci sono Antonio Scaiarini, il presidente dell'istituto storico Don Policarpo Scaiarini e lo scrittore Gianno Oliva, gli spettacoli teatrali di e con Elisabetta Tonon e i concerti ben tre, di cui il più importante è quello di martedì 28 gennaio, quando al traetta si esibirà Katia Ricciarelli. Anche questa volta, allora da Palazzo Gentile, è tutto pronto per Memento, il format con il quale si mettono insieme, idealmente ma non ideologicamente, le più importanti strage del Novecento, nel segno del motto che accompagna la manifestazione. Ricorda, conosci, medita, impara. Noi affrontiamo attraverso Memento il fatto che l'uomo quando entra in guerra e in conflitto genera poi distruzione, oppressione e martirio, quindi ecco perché è una rassegna particolare, forse unica nel suo genere. La grande novità di quest'anno saranno i momenti di riflessione, ben cinque e organizzati dall'Accademia Vitale Giordano, sul rapporto tra scienza, ricerca scientifica e olocausto. Su Katia Ricciarelli, invece, sulla cui presenza il popolo del web si è già stratenato, Rocco Mangini ha detto la sua. È una polemica di non senso perché la Ricciarelli è uno dei più grandi nomi della musica lirica italiana nel mondo, riconosciuta tra forse le prime quindici, dieci soprano della storia della musica lirica, ha semplicemente espresso una sua opinione che non confligge assolutamente né con l'arte né con quello che viene a fare.